E' uno degli appuntamenti più attesi dell'Aden, guerra tutta la seguida per due squadre che giocano un grande calcio che spesso ha regalato in passato grazie spettacolo. Sfira che promette gol e spettacolo e come vedete ha richiamato sulle tribune una grande rappresentanza di tifosi. Come c'è ovviamente l'Elia Dani che saluto e che è già pronto, prontissimo per il commento tecnico. Club protagonista della sfira che commenteremo oggi. Sfira che è anche un bel duello a distanza fra le panchine, due allenatori che si stimano e che faranno di tutto per portare a casa il match. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, gol, occasioni da rete, gli 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Tocco interessante in verticale. Palla ancora in gioco, pericolo, si alza la bandierina, facile questa chiamata. Aspettare la palla in area è il modo migliore per facilitare il compito della difesa. Bisogna muoversi, bisogna muoversi di più per non dare punti di riferimento e creare spazi per gli inserimenti. Recuperano palla. Gara che segna il suo debutto ufficiale con questo club, ha l'occasione per lasciare subito il segno. È arrivato l'esterno che stavano cercando, Pier. Giocatore che dovrebbe fornire diverse alternative al tecnico. Uno che può giocare sulle corsie, può essere spostato più avanti, può fare l'attaccante esterno. A mio avviso può dare un contributo importante, sia in fase di spinta che anche di finalizzazione. Riconquista il pallone con un buon tecnico. La mette in area di rigore. Conclusione delle spinta, se la cavano qui. Posizione di offside, doveva fare più attenzione. Apre, dall'altra parte. Angheleri. Avanza a caccia del barco giusto. Possono passare in vantaggio. La allontana. Trotta. Abdul Rahman. Pallone che torna in possesso degli avversari. Matuidi. Angheleri. Palla vagante adesso. Prova a cambiare gioco con questo lancio. Entra deciso e gli porta via il pallone. Matuidi. Recupera senza problemi su questo cross. Brutta disattenzione. È pericolosa. Può nascere qualcosa di buono qui. Angheleri. Angheleri. Intervetto efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera a parte. Il cross verso il centro. Interviene ed evita guai. Hanno una chance su questo corner. Possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Va direttamente in area. L'ha messa dentro di testa in acrobazia. Hanno sfruttato la perfezione questo corner cogliendo la difesa impreparata. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Brutta gestione del pallone. Prova col filtrante profondo. Prova il traversone sul palo lontano. Pallone controllato facilmente dal portiere. Entrata pulita e pallone recuperato. L'arbitro fischia l'infrazione e assegna dunque il calcio di punizione. Hernández. Occhio al suo movimento. C'è la conclusione. Attenzione perché c'è il pallone. Il pallone è ancora buono. D'applausi l'intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui. Istinto, tecnica, senso della posizione. C'è tutto in questa parola. Cross verso il centro dell'area. Pallone puntato via. Anghelleri. Riconquista il pallone con un buon intervento. Si va avanti per la norma del vantaggio. Ha controllato male. Si è portato il pallone oltre la linea. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla. Lo confermano anche i numeri. Però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi la manovra è prevedibile. Devono alzare il ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento. Allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio devono inventarsi qualcosa. Eh già, qui dovrebbero sicuramente trovare qualche soluzione in più. Vediamo se qui riescono a costruire qualcosa di interessante. Possibilità di contropiede. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Contropiede che sfuma. Pallone recuperato dalla difesa. Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli sfogliatori. Grazie a tutti. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Ecco il tiro. La spazia via in calcio d'angolo. Spazia via il pallone. Cerca la rete. Conclusione murata, palla ancora viva. Un gol bellissimo. Ha calciato di prima intenzione. Traiettoria fantastica. Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo. Bellissima. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno pareggiato. Hanno pareggiato. Dunque, 1-1. Abdulrahman. La pressione qui è stata efficace e ha commesso l'errore. Recupera palla la formazione avversaria. Libera l'area qui. Attenzione al pressing. Spazzano via il pallone. Ottima lettura. Recupera il pallone. Matuidi. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Tentativo di traversone. Gioco che va avanti. Duello tutto di forza. La legge bene e allontana. Intercetta il cross e spazza via. Che palla che è riuscita a intercettare. Ha diverse soluzioni. Occhio. C'è spazio. Attenzione. E c'è il gol. Passano nuovamente a condurre. Questo replay del gol. Una ripartenza perfetta. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Anghelleri. Anghelleri. La metta nel mezzo. Super parata nel portiere sul colpo di testa. Possibilità dalla bandierina. Caccia del pareggio. Buona lettura con rinvio lungo. Accompagnano l'azione. Anghelleri. Trascorto sul primo palo. Iniziativa che finisce. Si ripartirà con una rimessa laterale. Ha molto spazio per andare. Perde palla. Abdul Rahman. C'è la conclusione. Presa comoda per il portiere su questo tiro. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Passaggio calibrato male. Ci sarà la rimessa con le mani. Si gioca, c'è il vantaggio. A spazio. Interrompe l'azione pericolosa. Gioco fermo, c'è l'offside per l'assistente. Mancano dieci minuti alla fine della gara. Palla recuperata, attenzione. Palla che termina in out. Sarà fallo laterale. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Ferma l'attacco, intercettando bene la traiettoria. Palla messa dentro. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio. Conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene. La palla è andata di poco lato. Provano a far passare i minuti finali con il mantenimento del possesso palla. Vedremo se reggeranno fino alla fine. Si salda il portiere sull'imbucata. Pallota regalato. Hernandes. La regola del vantaggio si gioca. Intervento pulito sul pallone. Minaccia sventata. Si chiude qui il match con il successo della formazione di casa. Grande euforia in campo e sugli spalti. Vittoria è sudata, eh. La dimostrazione...